Buongiorno a tutti da Polentone in Giappone, oggi la signora non lavora e quindi facciamo una gita fuori porta, andiamo a Yamaguchi City, restate con me! Buongiorno a tutti da Polentone in Giappone, ci troviamo nella prefettura di Yamaguchi, nella città di Yamaguchi, e ci troviamo a Rurikoji Temple, che è un tempio del 1400 e ospita una delle tre pagode più importanti del Giappone, oltre che più belle, pagoda a 5 piani, ve la faccio vedere subito, eccola qua, guardate che bella! Le altre due pagode sono Anara e Kioto, e allora la prefettura di Yamaguchi è famosa per il pesce palla, e poi anche perché, curiosità, giusto così per dirvi due info, molti primi ministri giapponesi vengono da Yamaguchi, tipo anche Shinzo Abe è di Yamaguchi, tra l'altro, guardate che bel giardino! Adesso passiamo proprio sotto la pagoda, guardate com'è, non so se si vede, ma si vede proprio che è antica, pagoda a 5 piani, come dicevo! All'interno di questo tempio c'è anche un cimitero dove alcuni membri della famiglia Mori, che durante l'epoca Edo, cioè dal 1600 alla fine del 1800, la famiglia Mori era la famiglia che inizialmente ha fondato il castello di Hiroshima, quindi la famiglia che regnava nella zona di Hiroshima, e probabilmente anche Yamaguchi a questo punto, quindi c'è il cimitero di alcuni componenti della famiglia Mori, adesso entriamo, vediamo com'è. Penso che questa zona, questo giardino, questo tempio sia ovviamente molto più bello da vedere in fase autunnale, con i colori dell'autunno, piuttosto che adesso che siamo a... Oggi è il 4 di gennaio, tra l'altro è anche il compleanno di mio suocero, e il 4 di gennaio che, insomma, le foglie e i rami sono un po' spogli. Qua c'è anche il gelato, eventualmente. Beh, un po' di colori verdi ci sono, eh! Ma che bello! Bello, molto bello! Qua c'è la zona dell'incenso, dove è di buon auspicio portarsi il fumo dell'incenso verso se stessi, per, come si dice, curare eventuali mali. Questa è la zona interna con tutti i tesori. Tra l'altro questo qua, questo tempio, è considerato tesoro nazionale, tesoro nazionale giapponese. Queste sono le varie divinità, come si dice, buddiste, e la gente dona bevande, no? Cioccolatini, qua c'è poi caramelle, c'è un po' di tutto, milk tea. Però questo qua è un cimitero normale, non è il cimitero di cui vi accennavo prima. Per chi non avesse mai visto un cimitero in Giappone, ecco, questo è un cimitero tipico giapponese. Che poi tra l'altro, questi sono molto spesso cimiteri di famiglia, quindi non è per singola persona, ma quando muore un componente della famiglia, solitamente poi viene, come si dice, bruciato il corpo e inserite le ceneri all'interno di una fessura, all'interno di queste tombe. Perché, come si dice, in Giappone c'è poco spazio, quindi i corpi vengono tutti bruciati e poi inseriti queste tombe familiari. Allora, qui dentro al tempio ci siamo fermati a bere amazake, che è praticamente questo qua, che è un riso fermentato con il koji, che è praticamente il fungo che serve per la fermentazione anche del miso. ed è praticamente una bevanda calda che si beve all'inizio dell'anno, quando praticamente si va al tempio a pregare, eccetera, eccetera. In questo caso viene anche fornito, o comunque servito, più che fornito, con delle alghe kombu salate. E adesso beviamo e vediamo com'è. Adesso è ancora caldo. E' un po' tipo cremoso, una cremina. Adesso lo do anche alla signora che è qua. Segniamo questi due Salato. Eccole qua, queste qua sono le tombe. Se qualcuno è stato al museo, al parco della pace, anzi, si ricorderà che c'è il tumulo della pace, che è praticamente una specie di collina, fatta come questa qua che vedete dietro a sto cancello, dove sotto questa collina o all'interno di questa collina ci sono le ceneri dei corpi delle vittime non riconosciute che non sono state potute riconoscere morte a causa della bomba atomica. Un po' richiama come si dice la la forma, ecco. Adesso salutiamo la famiglia Mori e andiamo verso la prossima tappa. A neanche 5 minuti di macchina dove eravamo prima c'è il tempio Ryuhu Fukuji che è un tempio sempre buddista costruito inizialmente nel 1200 poi nel 1400 ha cambiato setta buddista nel 1500 poi ha preso fuoco e poi è stato ricostruito e anche questo qua è considerato un tesoro nazionale come tanti altri posti qui in Giappone. Prima qui c'era la famiglia Ouchi che poi ha perso la battaglia contro la famiglia Mori e quindi poi Mori dopo l'incendio in questa battaglia nel 1500 verso la metà del 1500 l'ha rifatto, l'ha ricostruito l'ha fatto ricostruire e poi insomma l'ha considerato proprio un po' piccolino come mi pare chiuso un po' più grande avevo visto su internet le immagini di questo tempio e ho detto bel giardino andiamo a vedere ma niente di particolare dopo altri 10-15 minuti di macchina siamo arrivati a Ryuzoji Temple che è un tempio dedicato a il Buddha Amida qua c'è la mappa sembrerebbe grande qua c'è una statua di 10 metri poi c'è ho letto anche eccolo qua questo qua il ghinco questo albero qua che è un ghinco di 900 anni e dicono che sia almeno era scritto così anche la signora mi ha detto che è il ghinco più alto del Giappone vediamo se è vero fa tutto più alto più grande ecco qua queste qua sono le sette statue delle divinità della fortuna 1-2-3-4-5-6-7 questa già mi gusta mi piace va in mezzo alla natura bello bello molto bello se faccio un affatto anche qua c'è la classica fontanella con il classico drago tra l'altro Ryu il kanji di Ryu in questo caso nei tre templi che abbiamo visitato oggi era il kanji di dragone quindi Ryuzoji Ryu è il kanji di drago ecco perché c'è anche questo adesso il sole si è abbassato c'è un po' d'aria fa un po' fresco saliamo le scale un passo alla volta non mi sembra così alto qua c'è uno Shiba un po' vecchiotto Mameshiba mi sa che è un incrocio c'è anche un gatto adesso la signora sta pregando che denti 10 metri dicono che sia alta qua praticamente dove siamo entrati ma noi prima siamo andati su dritti là adesso aspetto la signora che esca da questa stanza qua poi andiamo alla Ashi Yu sono le onsen per i piedi andiamo a scaldarci i piedi eccoci qua alle Ashi Yu guardate acqua bollente adesso adesso la signora ovviamente l'ha messo storto gira grazie guardate qua un po' di arte ma hai ordinato anche tu la stessa roba comunque c'è per chi ha freddo c'è anche dentro sia lì che dall'altra parte adesso mangiamo beviamo rilassiamo e ci scottiamo allora siamo arrivati a ora di cena alle 5.40 ma vabbè stasera andiamo in palestra quindi andremo presto siccome voi che mi seguite sapete che io sono un amante della pizza allora oggi sperimentiamo questa pizzeria che si chiama pizzeria volpe bianca adesso entriamo e vediamo com'è eccoci qua dentro il locale che ha 4, 8 10 14 18 circa un 26 coperti abbiamo ordinato un antipastino di carciofi visto che qui in Giappone è molto difficile di trovare e forno a legna come potete vedere poi prosciutto e rucola e 4 formaggi perché qua quanto pare i formaggi li fanno loro e hanno vinto anche dei premi là c'è scritto quindi vediamo come sono qui i formaggi che fanno e soprattutto le pizze ecco qua che sono arrivati i nostri carciofini proprio porzione giapponese due a testa 500 yen che sono 4 euro e qualcosa in Giappone è veramente impossibile trovare questi qua i carciofi adesso li mangiamo eccola è arrivata 4 formaggi sembra bella formaggiosa un bel bordo adesso mangiamo qua c'è il classico miele sento molto il golgonzola molto formaggiosa molto buona anche senza miele va bene finché attendiamo la rucola e grana vediamo i prezzi la margherita costa 1300 yen e devo dire che è un buon prezzo per una margherita avendo constatato la qualità la 4 formaggi costa 2000 e qua siamo poco sotto la media quella di carciofi 1800 dopo che c'è prosciutto e rucola 1900 poi c'è tonno e bianca tonno bianca quindi sarà senza pomodoro 1600 e poi questa qua che frutti di mare shifudo cos'è genobese 1700 scarora 1700 poi c'è tonno 1600 patatine fritte 1700 e poi cos'è gicca cos'è smoke bacon quindi col maiale affumicato 1600 è arrivata rucola e grana arriva tre fette di prosciutto crudo che potevano anche essere più piccole però si vede che le hanno appena tagliate con la fettatrice mi sembra tagliata molto bene buona usciti dal ristorante mangiato veramente molto bene abbiamo speso circa 6000 yen per due pizze due bibite due antipastini che abbiamo preso i carciofi più poi abbiamo preso anche le olive tanto poco chi lo sa però era veramente molto buona la pizza allora per oggi abbiamo dato abbiamo finito spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un mi piace commentate condividete vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale mio polentone in giappone seguirmi sugli altri social che sono facebook e instagram non mi rimane che dirvi al prossimo video del giappone ciao da polentone ciao